Come sta andando questo territorio UNESCO? Sta andando bene e quest'anno sicuramente il 2022 ci ha riportato sui livelli del 2019 se non di più. Turisti in crescita costante tra le colline UNESCO. Il dato è emerso oggi durante l'assemblea annuale dell'associazione che ha consegnato le targhe previste dall'UNESCO alle località che compongono il sito patrimonio dell'umanità. Un territorio economicamente in costante crescita e non solo per la produzione di prosecco. Sempre più giovani infatti si stanno cimentando nella ricezione turistica. Quest'anno sicuramente siamo stati in grado di rispondere all'aumento delle presenze, presenze non soltanto locali ma anche internazionali e sicuramente il prossimo anno sarà ancora più alta questa percentuale. La tendenza è in crescita media del 10% con prevalenza di turismo estero. Importante che chi viene a visitare i nostri territori e è stato ribadito durante l'incontro trovi strutture ricettive ma anche esperienziali e il sentiero del cammino UNESCO che sta attendendo l'ultimazione del ponte tra Farra di Soligo e Follina è uno di questi. Un percorso di 52 km che sarà percorribile in primavera. Un momento di festa ma anche di ricordo per Fabio Gazzabin, capo di gabinetto del presidente Zaia alla vigilia dei funerali che si terranno domani alle 11 nella chiesa di Arcade. Sono due persone che non ci sono più che sono state le colonne portanti del dossier perché qua ha fatto battaglia e dice e sono podo sacone Fabio Gazzabin. Grazie. 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 Grazie.